Come ti chiami? Io mi chiamo Monacoadriano. Lo vedete cari amici? Siamo qua al bar Malù della Garbatella, vedete? Al bar Malù della Garbatella. Lo vedete questo personaggio? Questo qua quando morirà, alla Garbatella, alla circoscrizione dovranno fargli una statua. Si chiama Adriano Monaco. Io ogni volta con lui incontro gli faccio i complimenti per come lo ha vestito. Mi ricordo che Adriano era un grande imperatore romano e poi lì Scozia ha costruito il Vallum, il muro il muro. L'impero romano finiva là, finiva là in Scozia. L'imperatore era Adriano. Guardate un po' che soggetto, ma guardate un po' come è vestito, guardate la differenza tra lui e me. Io sono un plebeo e lui è un patrizio. Lo vedete il patrizio di Roma antica? Lo vedete? Lo sapete che qua è arrivato pure Leandro. E' arrivato pure Leandro. Va bene? Allora guardate il nuovo video che hai mai fatto e ti faccio tanti saluti. Adesso andrai in tutto il mondo. Saluti a tante cose. Saluti a tutti. Grazie al professore.